I cinque operai di Brandizzo investiti da un treno lungo un cantiere sui binari o i tre lavoratori coinvolti nel crollo della gru in via Genova-Torino. Episodi che indignano, immagini che scuotono le coscienze, tragedie che nessuno può dimenticare. Eppure sono molti di più le morti sul lavoro, una catena continua di infortuni che spezzano vite e famiglie. Una strage silenziosa che va avanti al ritmo di quasi tre morti al giorno in tutto il paese, 680, nei soli primi otto mesi dell'anno. Uno stilicidio che coinvolge anche il Piemonte. Sono stati 46 gli infortuni letali, in leggero calo rispetto ai 52 dei primi mesi dello scorso anno. Un dato in controtendenza rispetto all'andamento nazionale, dove si registra un aumento del 3,5%. Crescono però le denunci di infortunio, sia in Italia che nella nostra regione. Sono state 386.000 in tutto il paese, poco più di 28.000 da noi, lo 0,9% in più rispetto ai primi 8 mesi del 2023. E sono aumentate, e di parecchio, anche le denunci di malattie professionali, cresciute addirittura del 21%, da 1026 a 1167 nella nostra regione, da 48 a 58.000 nel resto del paese. Dati che segnalano un'emergenza quotidiana, numeri che, come sostiene l'Annil, denunciano la necessità di riportare la giusta considerazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.